Oggi ti voglio proporre uno strumento molto prezioso, un semplice esercizio che praticamente nell'ultimo anno mi ha aiutato ad avere risultati straordinari. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, sono Adrian, esperto di imprenditoria digitale franchising online. In questi anni insieme al Cashflow Setup abbiamo avviato più di mille franchising online in Italia. Se siete interessati a costruire il vostro successo nel mondo digitale siete nel posto giusto. In questo canale condividerò la mia esperienza e vi darò consigli pratici per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Detto questo possiamo iniziare. Fai una lista di 5 cose da fare ogni giorno per raggiungere il successo. Un elenco di 5 cose che faresti ogni giorno per arrivare al successo. Ovviamente prima di fare questo esercizio ti invito a scrivere cosa significa per te il successo, perché il successo significa qualcosa di diverso per ognuno di noi. Però ti consiglio che una delle cinque cose sia la lettura, poiché una persona o cresce o muore. Non c'è la stagnazione. O si sale o si scende. E se non leggerai è molto alta la probabilità che scenderai. Gli altri 4 definiscili in base a ciò che desideri ottenere. Come funziona questa lista? Immagina di avere un giardino e nel cortile hai un albero e il tuo obiettivo è di tagliare quell'albero. Ma sei troppo occupato, non hai tempo, anche se lo desideri così tanto. Tutto quello che devi fare è la mattina quando esci di casa prendi un'ascia e li dai 5 colpi. Metti giù l'ascia e scapi perché sei occupato. La mattina dopo prendi di nuovo l'ascia, lo colpisci altre 5 volte nello stesso punto e scapi. Il terzo giorno altri 5 colpi, il quarto giorno altri 5 colpi, il sesto giorno altri 5 colpi, ogni giorno 5 colpi nello stesso posto. L'albero cadrà o no? La domanda non è se cadrà o no, la domanda è quando. Dunque fai la lista delle 5 cose, falle ogni giorno e la domanda non sarà se raggiungerai o meno il successo, la domanda sarà quando. Sette anni fa quando mi sono dimesso e sono entrato nel mondo dell'imprenditoria, sapevo per certo che avrei avuto successo. Non sapevo quando, ma lo sapevo per certo. Adesso ho una lista di 5 cose da fare per raggiungere 10.000 collaboratori nel cash flow setup. Piccolo spoiler, se non conosci il nostro modello di business e sei interessato al mondo business, ti lascio nei commenti o nella descrizione del video un webinar completamente gratuito dove ti spieghiamo come puoi guadagnare soldi online comodamente da casa solo con l'aiuto di un telefono. Ma torniamo al nostro esercizio. Caro mio, la domanda non è se arriverò o no, arriverò sicuramente. La domanda è quando e questo quando sai da cosa dipende? Da due cose, di disciplina e di quanto bene sono definite le 5 cose che ho scritto. Perché se una delle 5 cose è guardare la tv 5 ore al giorno, probabilmente non arriverò mai. Ma se ho definito bene in base al mio successo e sono disciplinato, ci arriverò molto velocemente. Detto questo, lascia un like e ci vediamo alla prossima. Vi saluto e vi auguro tanto successo. Ciao!